I ridimensionamenti contrattuali richiesti ad alcuni propri atleti, annunciati la settimana scorsa dalla società di calcio Profavara, ha prodotto le prime rescissioni. Non sono più giocatori del Profavara, infatti Peppe Bennardo, Stefano Piazza, Calogero Salemi e Antonio Palumbo. Tutti e quattro i calciatori hanno presentato le loro dimissioni. Il divorzio tra i quattro atleti e la società è avvenuto in modo consensuale. L'amministratore delegato del Profavara, Vincenzo Manciapane, ringrazia gli stessi giocatori per quanto hanno fatto per la squadra. Intanto, gli undici di Mister Romano proseguono la scia di risultati positivi e si godono la superba vittoria conquistata domenica scorsa in trasferta a San Giovanni Gemini. Il 3-0 rifilato alla squadra di Mister Barsamo porta alla doppia firma del neoacquisto Fabio Messina, autore di due reti. In virtù della vittoria conquistata a San Giovanni Gemini, il Profavara in graduatoria giunge a quota 18 punti che equivalgono all'ottavo posto in classifica. Domenica prossima, allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri di Favara e Giallo Blu ospitano la folgore di Selinunte che di punti in classifica rispetto a loro ne ha esattamente la metà.